City Life, City Life, City Life, City Life, City Life, le voci della tua città. Benvenuti negli studi di Radio PNR TV dove oggi inauguriamo una nuova rassegna dedicata alla musica, la musica anche in parte suonata dal vivo, lo facciamo con il primo ospite che è Fabrizio Consoli, grazie per essere qui con noi. Grazie Lucia e ciao a tutti. Abbiamo deciso anche di fare queste video interviste per provare un po' ad esplorare il mondo della musica che non è prettamente commerciale, è una musica di qualità che viaggia su altri canali, su altri percorsi. Quello che hai scelto tu Fabrizio qual è? Non rido perché già il fatto che tu indichi che la mia musica di qualità è musica non commerciale, cioè in qualche modo mi viene un po' da toccarmi. Però detto questo e vuoi sapere il mio percorso. C'è tutto questo tempo. Tu intanto sei qualcuno che ha anche conosciuto il mondo più mainstream, se così lo vogliamo definire, anche suonando con grandi artisti, con partecipazioni al festival di Sanremo, quindi sicuramente hai visto anche quella musica. Quel mondo. Quel mondo musicale e non solo. Giravano i dinosauri. Ecco, quindi quali sono un po' le differenze? Guarda, io dico sempre che c'erano i dinosauri, perché è una battuta chiaramente, però rende molto il senso. Tu pensi che vent'anni fa internet era poco più che un'idea. Io ho visto i primi assistenti di studio chattare dentro dei cosi neri, degli schermi con delle cose che sembravano la NASA, bisognava anche avere delle conoscenze che si avvicinavano a quelle specifiche che servono per mandare un razzo nello spazio, per chattare, per esempio. Adesso si fa tutto molto facilmente, insomma hanno i messaggi vocali dall'altra parte del mondo. È proprio un altro mondo. E per forza di cosa anche il mio mondo, che era un mondo in cui, non so, senti, ascolti i dischi dei Beatles e io che conosco, insomma, il mezzo tecnologico, riesco a capire i tagli ed erano pieni di castroneria, di tagli, tecniche intendo, di tagli. Quando sbagliavi dovevi rifare e stare attento a non sbagliare troppo, perché, intendo suonando, perché il NASA era un materiale fisico che più volte veniva cancellato e riutilizzato, più si assottigliava. E queste sono le cose che poi gli iscrivete a sentire quelli analogici. Per cui da cose di questo genere che presupponevano anche un certo tipo di artigianato manuale, quindi dovevi far sapere muovere le bobine, dovevi essere molto freddo, lucido, ma nello stesso tempo avere abbastanza cuore da lasciare una traccia, da registrare una cosa viva e quindi non, capito, fredda e semplicemente giusta. Era un mondo, era un mondo molto più competente, molto più in cui avevi bisogno di studiare. E oggi è completamente tutto un po', tutto un po' raffazzonato da una parte e dall'altra era meraviglioso, perché è innegabile che se io per fare un disco negli anni 80 o negli anni 90 avevo bisogno di, non so, di 100 milioni per prendere uno studio, per, non so, fare un video, costavano 10, 15, 30, 50 milioni di video in pellicola fatti per non parlare dei dischi. Sono dischi che sono costati miliardi, non hanno neanche reso quello che sono costati. Anche questo, c'era un'economia, delle professionalità, un artigianato e anche una maniera di fare musica che era completamente diversa. Oggi, ti ripeto, il mezzo ti fa vivere in una situazione meravigliosa, perché dicevo prima dovevo spendere con la cifra, oggi posso fare i dischi in casa mia, pagando le persone, ma i mezzi costano un centesimo di quello che costavano solo vent'anni fa, 25 anni fa. Si parla adesso però, appunto, anche di crisi del mercato discografico. La gente non compra più i cd fisici, forse anche per questo avvento del digitale che ci ha portato ad arrivare alla musica in maniera rapidissima, con qualsiasi mezzo. Io ti chiedo però se c'è anche una crisi della musica live. La gente ai concerti ci va ancora? Beh, la gente per ora ai concerti ci va ancora, perché non hanno... un po' probabilmente è cambiato il... ed è un grande peccato, secondo me è cambiato il motivo per cui va ai concerti. Adesso ai concerti a volte mi dà l'impressione, neanche per godersi lo spettacolo, ma per filmarlo, per riprenderlo, per riprendersi nello spettacolo. Sai, il concerto è sempre stato un po' un'autocelebrazione dei propri gusti, del proprio appartenere a un pubblico, a un certo tipo di mondo, di genere, pensa ai moods, pensa ai metallari, pensa... è sempre stata comunque in parte anche una cosa aggregativa, ma anche puramente musicale. E adesso questa cosa, in special modo in Italia, in Italia dove noto veramente una sorta di imbarbarimento quasi dei gusti della gente, dei ragazzi anche, ma dovuto fondamentalmente, non perché sono stupidi, fondamentalmente dovuto al fatto che la musica non è più un desiderio, come lo era per quelli della mia generazione, che facevano la fila per comprare l'ultimo disco dell'artista che ci piaceva. Io mi ricordo ho fatto la fila per comprare The Wall, avevo 12 anni, non ne avevo 500. e lo aspettavi, non vedevi così tanta musica. Oggi è tutto... la produzione è diventata mastodontica rispetto a quello che il mercato può assorbire e soprattutto è un mercato talmente frettoloso, usa e getta, che molto spesso non ha neanche il tempo di capire quello che sta succedendo, non ha neanche il tempo di rendersi conto se gli piace o non gli piace, difficilmente in una ricerca musicale si arriva ad ascoltare un pezzo all'inizio o alla fine, o un artista per scoprire l'artista. Un artista lo conosci ascoltando dieci pezzi, cinque pezzi, ti fai un'idea vaga di quella che è la sua storia. e parlare del mercato, il mercato fondamentalmente si è stato massacrato dalla digitalizzazione e dall'inciviltà e dal fatto e da se stesso in qualche maniera perché i primi che hanno cominciato a utilizzare il mercato digitale come distribuzione capillare hanno in qualche maniera ha dato il via a un fenomeno che ha portato la gente a pagare molto poco, molto poco la musica, ma non ai musicisti, ma ai pochi che hanno la maniera di farti arrivare questa musica. Quindi cosa succede? I musicisti sono totalmente impoveriti. Chi fa musica, chi produce ha infinitamente meno dei budget, io faccio dischi praticamente senza budget tirandomi fuori i soldi di tasca rispetto a una volta, io vendo i dischi solo ai concerti perché laddove il mezzo tecnologico ha dato la possibilità a tutti di fare musica, di apparire in rete, sul web e di tra virgolette farsi conoscere. È in realtà una grande truffa, una grande bugia perché non è vero che tutti hanno le stesse possibilità di farsi conoscere, perché le grandi star avranno sempre mezzi da grandi star, anche le medie star avranno sempre. e i progetti nuovi, specie quelli che hanno, come dici tu, hanno una valenza non immediata, non immediatamente mainstream, faticano tremendamente a trovare spazi, a far sapere che esistono. A proposito di progetti parliamo anche dei tuoi progetti, della tua musica, perché oggi Fabrizio Consoli è qui anche per presentarci l'ultimo album che si intitola 10 e ci facciamo introdurre in questa chiacchierata proprio da un pezzo tratto dal disco. Va bene, allora ti suono la cultura che è un pezzo, la seconda traccia del disco nuovo ed è proprio una... in qualche maniera si rifà quello di cui abbiamo parlato finora perché un po' quello che diciamo che l'epoca ha portato insieme alla facilità dei mezzi tecnologici ha portato una grande... l'opposto alla controcultura che cos'è? che è un appiattimento totale, una mancanza, un appiattimento della curiosità, della voglia di andare a scoprirsi delle cose che non sono solo lì. Pensa solo alle trasmissioni musicali, non esistono in televisione, non ci sono... le trasmissioni, i talent, non sono trasmissioni musicali bensì programmi televisivi che usano la musica ma non parlano di musica, non fanno musica, non propongono musica, propongono vecchie canzoni, vecchi repertori, con voci più o meno nuove, più o meno belle, più o meno... mai sentite... la cultura... La cultura è una parola ambigua, che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' e non ha niente a che vedere con, è fra tutte le parole ambigue, è quella che più riempie bocche vuote, spacciata agli angoli delle vie, ti costerà una lemosina, la cultura è una parola strana, se la sfiori ti macchierà, la cultura è una parola grassa, segna le guance, riempie i gabineti, è l'oro dato impasto alla gallina, gocciacca, ruggine e rubinetti, e qualche resta sombriciole, che nessuno raccoglie mai, la cultura è una parola strana, fiorisce dove non semini, eccola lì, mentre illumina gli angoli pubi, aonca la verità, solo la verità, eccola lì, l'alchimista degli ultimi, a guardarla distillare splendore dall'oscurità, dall'unanima cantità, lei te la sfoglie. Eccola, la cultura di Fabrizio Consoli è tratta da dieci, dieci come dieci comandamenti, ma prima di arrivare lì facciamo un passo indietro. Anche questo album è, se vuoi, un po' in controtendenza rispetto a quello che abbiamo sul mercato musicale e ci rimanda anche un po' al mondo di cui parlavi prima, perché questo è un concept album, è qualcosa che andava più di moda forse qualche anno fa. Che cos'è un concept album? Allora, un concept è un'opera fondamentalmente, è un'opera, a volte un'opera d'arte, a volte comunque, come dicevi tu, era forse più in auge qualche anno fa, io mi ricordo un concept degli Who, molto importante, che è Tommy, ma era molto spesso i dischi più importanti, The Wall, gli Escaping Floyd, sono quasi tutti dei concept. E sì, un concept è il motivo fondamentale per cui io mi esprimo attraverso i concept, anche i dischi vecchi, uno si chiamava 18 piccoli anacronismi ed era uno spogliare le canzoni dai loro vestiti, infatti un disco chitarra, voce, barba, acqua, pochissimi, con pochissimi arrangiamenti, per cercare quella che era l'essenza delle canzoni e per fare un lavoro, per creare un lavoro, perché mi piace parlare della mia musica, del lavoro che faccio, quindi del fatto che scrivo musica e componga in cittadischi, come del lavoro di un scultore, quindi come se si trattasse un'opera, perché questo secondo me dovrebbe fare un musicista, l'artista, lavorare a cose, ad opere che senza tempo. 18 piccoli anacronismi era un lavoro fatto proprio sull'essenza delle canzoni, e non a caso quelle canzoni riarrangiate, oggi a distanza di dieci anni, di dodici anni, io continuo a suonarle e quindi raggiungere la canzone nella sua forma fuori dalla moda, dall'arrangiamento che in qualche maniera lega un tempo, un periodo, una moda anche realizzativa. Io volevo fare un disco di canzoni totalmente nude, in cui fra trent'anni potermi riconoscere, potermi ancora una volta avvicinare senza sentirlo vecchio, suonare vecchio. L'altro, Musica per ballare, dice il titolo, era un lavoro sulla musica che ti costringeva a stare vicino a ballare, a sentire la persona, in qualche maniera condividere un'esperienza che oggi è molto difficile riuscire a ripetere, se non per scelta, ci sono i club dove si impara a ballare il tango, quelle cose lì, quindi era tutto un lavoro sui tanghi, sulla musica sudamericana, sullo swing, su quel mondo lì, quel mondo legato al ballo. Anche di questo disco continuo a suonare molte canzoni. E 10 è una rilettura laica e contemporanea dei Dieci Comandamenti. Senza tempo, più senza tempo dei Dieci Comandamenti. Lì le motivazioni sono diverse, ma ti chiudo il concetto dei concept, perché... Allora, ne parlavamo prima, la musica oggi è fondamentalmente un recuperare vecchi repertori, un riandare a riscoprire i 60s, i 70s, gli 80s, i 90s, poi adesso scopriranno i 2000s, eccetera. Ma fondamentalmente sì, anche nei talent, anche nella musica che viene proposta attraverso i media, guarda le grosse radio che la mattina fanno intrattenimento e poi mandano un grande classico. E' difficile che ci sia lo spazio e il tempo per scoprire nuovi repertori. Per repertori intendo non una canzone, nuovi artisti che hanno una proposta organica, un mondo da proporre e da offrire. Quindi questo da una parte, dall'altra fare un disco porta via degli anni di vita. a scrivere, almeno a me, cioè io ci metto, ci ho messo cinque anni a scrivere, a realizzare dieci. E se tenevo duro ce ne mettevo dieci. A seconda degli anni, no scherzi a parte. Quindi l'impegno è talmente tanto e la possibilità di essere ascoltati in tempo reale, dico in contemporanea l'uscita di un disco talmente bassa, che tanto ne vale dargli un senso. Non puoi fare una raccolta di canzoncini, di canzoni così buttate insieme in un disco. Secondo me, perché il rischio è proprio di dare completamente nessun tipo di chance al tuo lavoro. Dall'altra, io amo la musica di proposta, la musica di contenuto e quindi quella voglio fare. Questa cosa dà alla tua musica la possibilità intanto di essere lette in maniera organica, in maniera come un'opera d'insieme. Fermo restando che ogni canzone ha la sua anima, la sua vita, il suo percorso che farà comunque. Non si tratta di un disco di sermoni, come dire, un disco in qualche maniera vuole dare un'idea o una visione, ma semplicemente uno spunto di riflessione, volendo. A me è servito per questo motivo. Infatti i comandamenti, riconoscendo i comandamenti, un valore prima che religioso, prima che dogmatico in qualche maniera, un valore di fondamento di società, un valore quasi giuridico, perché è chiaro che non devi uccidere. E questa è una cosa che va al di là del fatto che sia religiosa. Ogni cultura ce l'ha, cioè tutte le culture hanno i loro comandamenti. Quindi questo mi ha fatto riflettere, per esempio, su cosa è cambiato rispetto all'epoca in cui sono stati iscritti, sono stati redati i comandamenti, oggi. E quello che, rispetto ai comandamenti, oggi mi sembra riduttivo, lo sento mancare. Quello che mi piacerebbe che fosse insegnato ai miei figli a scuola, da subito però. Perché secondo me è lì che bisogna partire. Perché, nonostante i comandamenti, io sento che per esempio la mia generazione ha totalmente fallito nel lasciare ai propri figli a chi arriva, non dico un mondo migliore, ma almeno lo stesso mondo. Quindi è un lavoro abbastanza velleitario, non dico pesante, ma comunque un lavoro che ha, nella chiave di lettura del concept, poi chi avrà la fortuna di ascoltarlo se ne renderà conto, insomma, un valore aggiunto e un valore tridimensionale proprio al disco. Perché tu lo senti, lo ascolti, non ne sai nulla. Ti faccio un esempio, poi farò La fidanzata, che è una canzone che sembra una canzoncina su un'americana X senza nessun shock. Peraltro parla di una cosa molto importante, molto cattiva, una visione del nostro paese, molto cruda, realistica. Ma un amico, tra l'altro fa il giornalista, l'ha sentito fare, questo è il pezzo più brutto dell'album, quello più sciocco, quello più... Quando gli ho fatto vedere il video, gli si è accesa, va, è il suo preferito. Ecco. È diventato il suo pezzo preferito, capisci? Questa è una cosa bella, il fatto che tu hai, della musica è comunque fatta di canzone, canzonette, anche radiofoniche a volte, che con una chiave di lettura... Ecco, il video della fidanzata che ascolteremo tra poco è visibile anche sul tuo sito, che ricordiamo così che i nostri ascoltatori possano anche continuare a seguirti e scoprire dove vederti live. www.nutella.it Fabrizioconsoli.it Fabrizioconsoli.it C'è il video della fidanzata che stiamo per ascoltare e chiudiamo intanto ringraziandoti per essere stato con noi e dicendo anche dove davvero ti si può trovare live, dove ti vediamo quest'estate. Quest'estate sono un po' in Germania, quindi non so se qualcuno può aver voglia. Comunque sul sito ci sono tutte le date indicate. Ho qualche concerto in Italia, a Parma, a Reggio Emilia e poi faccio Pistoia Blues il 16 luglio. Chi fosse in Toscana a vedere Pistoia Blues mi può trovare lì, basta guardare i cartelloni insomma. Bene, allora buona estate, la fidanzata Fabrizioconsoli. Grazie, grazie a tutti e ciao. Ciao, buongiorno amore, è una splendida giornata, è già entrato il cielo, nella finestra disegnata, sul tuo piccolo giardino, c'è il tuo cappuccino, pane fresco. Ciao, buongiorno amore. che sarà ai mamma è una fidanzata in coma e chissà, e chissà mai quando si sveglierà ai mamma tenga i dino che è in coma e sto a chi è sperando il dia che gli avvolverà ciao a tutti